Buona serata, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'incidente avvenuto ieri sulla passante di Mestre, nel quale sono rimasti uccisi due operai, mentre un terzo ricoverato in gravi condizioni. Gli uomini erano addetti alla manutenzione del ciglio stradale, con altri colleghi erano nella zona di un cantiere mobile, ampiamente segnalato, ma su di loro è improvvisamente piombato un tir. Quello di ieri è stato un pomeriggio infernale su quel tratto. Le vittime sono Francesco Villacci, 28 anni, di Breda di Piave, e Mauro Camerotto, 47 anni, di Maserada, della provincia di Treviso. All'incidente hanno assistito alcuni colleghi dei colpiti, che non potranno ovviamente mai dimenticare quelle scene terribili. Non è chiaro come il conducente del tir si è piombato su di loro. Prima di colpirli c'era un mezzo della CAV che avvertiva della presenza del cantiere mobile. Alla guida del mezzo che ha investito i tre uomini c'era un 44enne lombardo. Arrestato l'autore di una spaccata notturna venuta a Mestre in una farmacia a segnalare la presenza di un individuo che stava agendo in maniera sospetta vicino alla vetrina alcune chiamate al 113. Gli agenti sono piombati con tutta velocità sul posto e hanno sorpreso in flagrante un tunisino di 17 anni che stava agendo da solo. È stato arrestato e condotto nel carcere minorile di Treviso. Si tratta di un giovane con molti precedenti alle spalle e ovviamente viene spontaneo domandarsi se si tratta dello stesso giovane che ha agito a Padova ed era stato definito il re delle spaccate. Maltempo su Veneto e Friuli. Quest'estate anomala non molla e sono moltissime le zone che stanno subendo disagi. Ieri sera a Jesolo il territorio ha subito degli allagamenti davvero imponenti. Alcune strade sembravano dei torrenti. Sul posto decine di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile. A far paura anche una tromba marina che fortunatamente poi ha abbandonato la sua forza. Guardate. Pesanti le conseguenze del maltempo a Jesolo. Nella prima parte della serata di martedì la zona ha subito un nubifraggio violento con la visuale dell'arrivo di una tromba marina. Il nubifraggio è iniziato dalla zona di Cortellazzo, poi ha colpito la pineta e ha raggiunto il cavallino. La pioggia ha allagato strade, negozi, garage, primi piani delle abitazioni. Un vero disastro che ha colpito le attività commerciali già messe a dura prova dal calo presenze in seguito a quest'estate anomala. Molte vie sono rimaste impraticabili e la polizia locale ne ha chiuso l'accesso per evitare che gli automobilisti vi rimanessero bloccati. Alcune zone erano come un torrente, l'acqua scorreva alta e veloce. Sul posto hanno lavorato varie squadre dei vigili del fuoco provenienti da mestri da vari distaccamenti. Al lavoro anche la protezione civile. A preoccupare i presenti anche una tromba marina in formazione a largo, un vortice minaccioso che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Fortunatamente la massa si è disciolta quando mancava poco alla riva e non ha prodotto conseguenze se non un gran sospiro di sollievo. Piogge consistenti e intense anche nel Padovano. Molte strade allagate sono state chiuse ma stamane la situazione era decisamente migliorata con l'acqua defluita. Martedì sera il maltempo si è scatenato con grossi quantitativi d'acqua sulla zona delle terme padovane. In pochi minuti in terre vie sono rimaste allagate. La polizia locale è immediatamente transennato e chiuso il transito in alcune aree e vietato l'accesso ad alcuni sottopassaggi. Fortunatamente nella mattinata di mercoledì la situazione è tornata alla normalità, anche se sull'asfalto erano presenti i segni lasciati dall'acqua che in alcuni punti è rimasta per ore. Hanno faticato a defluire anche i fossi. Ciò che preoccupa è l'area dei cogli e degli argini che sta assorbendo tantissimo e il rischio è quello di possibili movimenti franosi. Per tutta la giornata il cielo si è mantenuto variabile con spazi di sereno alternati ad altri di nuvolosità intensa. Solo ad alzare gli occhi al cielo e osservare lo scenario in mattinata sulla zona di Limena, Villa Franca e Taggi di sopra, faceva temere il peggio e l'incombenza di nuovi nubi fraggi. Ma fortunatamente, a parte qualche breve pioggia, le nuvole hanno corso veloci dissolvendosi e lasciando spazio a brevi precipitazioni. Allagamenti nella sterata di martedì si sono verificati anche nella zona di Ponte Vigo d'Arzare, dove sono state azionate le idrovore. Ieri sera a Mestre, nel Veneziano, la polizia è intervenuta per soccorrere una donna che era stata picchiata dal marito. La signora che era in compagnia del figlio era riuscita ad andare fuori di casa e comporre il 113. Quando gli agenti sono arrivati sul posto l'hanno immediatamente soccorsa, hanno chiamato il 118 e l'hanno fatta portare al pronto soccorso per essere stata medicata. Il marito che era in stato di alterazione alcolica e con precedenti aggressioni nei confronti dei familiari è stato allontanato da casa con divieto di farvi il ritorno. Quando gli agenti lo hanno incontrato, ha aggredito anche loro. È stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali e minacce. Restiamo ancora in territorio veneziano. Un mestrino di 40 anni è morto nella notte in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Ponte nelle Alpi. L'uomo Steven Zago era alla guida di una BMW X3 quando ne ha perso il controllo per cause che ancora non sono note ed è finito nella scarpata che costeggia la strada in quel punto. Le immagini apparse dai soccorritori sono state tremende. Per il mestrino che abitava in una zona centrale della terraferma veneziana non c'è stato nulla da fare. Ferito un altro giovane che viaggiava in auto con lui. Sul posto vigili del fuoco di Belluno, ovviamente il 118 e i carabinieri. Dobbiamo parlare di un altro grave incidente stradale avvenuto questa volta in provincia di Padova nella mattinata di oggi a Correzzola. Tre i feriti. Tre feriti e il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì a Correzzola in provincia di Padova. Una persona è ricoverata all'ospedale della città del Santo dove è stata trasportata con l'elicottero. Si tratta di una donna rimasta in gravi condizioni. Le altre due persone sono invece ricoverate all'ospedale di Piove di Sacco. L'incidente è avvenuto a Ponte Dabbà a scontrarsi un'auto e un camion. Sul posto, assieme agli uomini del suo e me dei carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I carabinieri di Strana e Veneziano hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 30 anni, residente nella frazione di Palluello. L'accusa nei suoi confronti è spaccio di droga. L'uomo, un artigiano incensurato, aveva in casa 167 grammi di marijuana. Erano già suddivisi in quattro involucri di cellophane, ma sono state trovate anche due piante di canapa indiana coltivate in vaso, alte circa un metro e mezzo. Inoltre, i militari hanno individuato mille euro in contanti, probabilmente denaro provento dell'attività di spaccio. Nella perquisizione è stata trovata anche una carabina d'aria compressa, priva di matricola e marca. A Padova, una donna anziana è stata derubata dalla sua badante e dal compagno di lei. Una storia emersa dalle indagini della polizia. Ascoltate. Una donna di nazionalità rumena e il compagno hanno derubato una signora padovana dove svolgevano ruolo di badanti. La coppia, dai modi gentili, aveva acquisito la fiducia della padrona di casa di cui si prendevano cura, ma evidentemente le loro carinerie avevano tutt'altro interesse che svolgere amorevolmente il loro lavoro. I due di nazionalità rumena, lei 25 anni e lui 26 anni, sono stati arrestati dagli uomini della questura di Padova. La coppia ha inscenato un furto compiuto da altri, tanto che hanno lanciato l'allarme sul posto il 113 per i rilievi, ma la capacità intuitiva e l'esperienza degli agenti hanno fatto emergere particolari, dai quali appariva una realtà differente da quella denunciata dalla coppia. In casa mancavano gioielli della padrona di casa per 10.000 euro, ma quei beni preziosi in realtà erano stati rubati dalla coppia affidata. Loro sono stati arrestati e la refurtiva è stata recuperata. I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia hanno recuperato un dipinto, un olio su tavola raffigurante San Luca Evangelista, un'opera del XVII secolo firmata Remembrandt. Era stato rubato il dipinto nel Padovano. Il recupero a distanza di 35 anni dal furto è stato possibile dopo articolate indagini connesse a un'arrogatoria internazionale in Francia. Il prezioso dipinto fu rubato assieme ad altre opere nella notte tra il 12 e il 13 dicembre del 1979 a Monselice, dalle sale del Castello Cini. All'epoca era di proprietà della Fondazione Giorgio Cini e dal 1981 diventato di proprietà della Regione Veneto. Esce dal carcere dopo quasi tre mesi l'ex senatore del PDL Luigi Grillo arrestato lo scorso 8 maggio nell'ambito dell'inchiesta milanese sulla presunta cupola con al centro appalti Expo Sogin della Sanità Lombarda. Il GIP Stefania Donadeo gli ha concesso i domiciliari anche sulla base dell'attenuazione delle esigenze cautelari. Adesso torniamo a parlare della Sanità Padovana. Al centro dell'attenzione in questo periodo, come sapete, il futuro dell'ospedale della città. Una situazione complessa e adesso interviene il Partito Democratico Regionale che chiede al Presidente Zaia di non mollare la vecchia strada. Ma sentiamo la situazione. La questione del nuovo ospedale di Padova rimane un nodo che crea pareri discordanti in città. Nei giorni scorsi l'incontro in Regione con la nuova Commissione e il Sindaco Bitonci. Il Presidente della Regione Veneto in questo momento ha bloccato tutto l'iter presentato dalla precedente amministrazione mentre la Giunta Bitonci ha presentato un nuovo progetto per una nuova realizzazione sull'esistente. Nelle ultime ore però è salita la tensione tra colori politici e i consiglieri regionali del PD hanno depositato in Consiglio regionale una risoluzione che impegna il Presidente Zaia a proseguire nella programmazione già tracciata e a dare continuità all'iter amministrativo avviato per realizzare il nuovo ospedale nell'area di Padova Ovest. Il PD regionale che si dice allarmato per i cambiamenti in atto ricorda che c'è un iter legislativo amministrativo già avviato per realizzare un nuovo ospedale in un nuovo sito e un finanziamento regionale di 150 milioni di euro già assegnato. A Motta di Livenza episodio incredibile in una zona centrale del territorio. Una donna a piedi è finita contro un'altra signora che è caduta rovinosamente a terra mentre l'investitrice si è dileguata la donna caduta una 71enne è stata soccorsa e portata all'ospedale ha riportato delle conseguenze pesanti la frattura del femore e la frattura di un polso è stato necessario il suo ricovero all'ospedale. In questo momento la donna che ha travolto la 71enne è ricercata. Nuove disposizioni da parte del presidente veneto Luca Zaia che ha disposto controlli sanitari sugli immigrati che arrivano sul territorio. Un'azione per proteggere i veneti ma anche i profughi e i volontari che lavorano a stretto contatto con loro. Gli immigrati che arrivano in Veneto come profughi saranno sottoposti a controlli sanitari. La decisione è stata presa dal presidente Zaia che ha a cuore la salute dei suoi cittadini e anche quella dei poveri disperati che affrontano la traversata verso la Sicilia. La salute dei veneti, dice Zaia, rappresenta una priorità assoluta di fronte a una situazione nella quale il governo questi problemi non se li pone. Il presidente ha incaricato il direttore generale della sanità veneta Domenico Mantuan di occuparsi della questione e ha formalizzato un decreto attraverso il quale vengono disposti i controlli. Fermo restando il nostro non netto e assoluto all'accoglienza di nuovi extracomunitari considerando che il Veneto ha già dato ospitalità a 500.000 extracomunitari di cui 30.000 senza lavoro, prosegue il presidente della regione, i controlli saranno effettuati nell'interesse prioritario dei veneti ma anche di questi poveri disperati che possono non sapere di essere malati e devono essere curati in caso di necessità. Penso anche ai cittadini e ai volontari che, inutile nasconderselo pur senza fare allarmismi, spiega, potrebbero essere esposti all'ipotetico contagio di malattie da tempo pressoché scomparse qui da noi come TBC o scabbia o di patologie caratteristiche dei paesi di provenienza dei profughi che loro potrebbero incolpevolmente importare. Zaia afferma di non essere l'unico a porsi questo problema perché gli USA hanno innalzato ieri di un grado il loro stato di attenzione su Ebola e il ministro degli esteri britannico ha dichiarato oggi che si tratta di un problema reale per il suo paese. È una tutela a 360 gradi, dice, che parte dalla garanzia sulla salute dei migranti e di fatto costituisce una doverosa azione di prevenzione della diffusione di malattie, soprattutto quelle trasmissibili per via aerea e per contatto. Va anche verificato, prosegue il governatore, lo stato igienico delle strutture ospitanti. Una ragazza di 26 anni è stata aggredita a Mirano nel Veneziano. La giovane era in attesa dell'autobus alle 6 del mattino per andare a lavorare. Improvvisamente le si è avvicinato un giovane che senza motivo ha iniziato ad insultarla, poi le ha sputato in faccia e infine l'ha presa a calci. La veneziana è stata salvata soltanto dall'arrivo del bus, sono stati allertati i carabinieri e la 26enne è stata portata al pronto soccorso dove è stata medicata. Adesso un momento simpatico. Fortunatamente in quest'estate anomala c'è chi scherza e fa ironia. Il meteo e il maltempo sono protagonisti sul web in questo momento. Se c'è chi da una parte si lamenta sui social network, c'è anche chi mette delle vignette con le renne in spiaggia oppure chi cambia le parole alle canzoni, come in questo caso. Sentite. Estate è anomala, temperature basse, tanta pioggia, insomma un clima completamente cambiato in una buona parte dello stivale e c'è chi fortunatamente fa dell'ironia simpatica. Al tempo non si comanda e nulla possiamo fare per cambiare la situazione se non viverla trovando un'alternativa per sorridere. Sul web sta girando all'impazzata una canzone sulle note famose di Giuseppe Ferreri ma con il testo completamente cambiato da parte di una voce maschile che sicuramente è candidata ad essere tra i tormentoni di questi giorni. Par novembre, se che piove non che amo a nianca un istante è avvenso che non si vede quasi niente un momento è par che avvenia manco forte ma è una mia convinzione Par novembre, la città si allaga tutta in un istante non che credo guardo fuori e resto inerme dita morti vado dentro e sero e porte e penso come che sarà sto novembre E adesso, dopo questo momento, ovviamente, prima di salutarci dobbiamo doverosamente dare uno sguardo alle previsioni del tempo un nucleo depressionario si sposta dall'Italia centro-settentrionale verso sud-est da domani avremo la pressione in temporaneo aumento con conseguente attenuazione dell'instabilità specie in pianura e temperature massime in marcato rialzo da sabato, l'avvicinamento da ovest di una nuova perturbazione però potrà portare ancora della variabilità è tutto per questa edizione vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata grazie a tutti